Salve a tutti, io sono Paolo e vi presenterò il lavoro che abbiamo fatto in questo articolo in cui studiamo gli effetti della radiazione nei microprocessori ARM confrontando e combinando uno studio fatto negli stadi iniziali del design del chip con gli studi fatti a livello fisico. Noi sappiamo che i microprocessori attuali hanno performance sempre più elevate e funzionalità sempre più complesse ma questo fa anche sì che questi dispositivi siano più fragili e che possano essere corrotti da svariati effetti, per esempio la radiazione o difetti di produzione, la degradazione o la riduzione del voltaggio. Se vogliamo far sì che questi problemi siano risolti, di solito serve un overhead, bisogna pagare un costo. E' chiaro che più presto nel design del processore io riesco a capire cosa devo modificare, meno questa modifica mi costerà. Il processo di vita di un chip comincia con il design, poi si creano i modelli di performance microarchitetturali, si ha la descrizione RTL e alla fine si ha un dispositivo hardware che poi verrà messo nel mercato. Il dispositivo hardware può essere esposto per capirne l'affidabilità a dei fasci accelerati di particelle che in poco tempo riescono a darci una valutazione realistica e molto dettagliata della reliability di questo dispositivo ma purtroppo se io vedo che il dispositivo non è sufficientemente robusto, cambiare il design è molto costoso. La valutazione dell'affidabilità la posso fare anche a livello RTL che comunque mi offre uno studio con grande dettaglio ma purtroppo questa analisi è molto lenta e ancora una volta cambiare il design diventa molto costoso. Infine, se lo studio dell'affidabilità è fatto a livello microarchitetturale riuscirò ad avere un'analisi abbastanza veloce con un livello di dettaglio interessante e siccome i modelli microarchitetturali sono disponibili nei primi stadi del design del processore fare il redesign non è così costoso. I guasti sono generati ovviamente nel silicio a livello hardware e poi questo guasto si propaga a livello circuitale, poi a livello RTL e poi alla fine si manifesta a livello microarchitetturale. È chiaro quindi che una valutazione dell'affidabilità del dispositivo più fatta più vicina all'hardware, quindi con dei BIM experiment fatti su dei prototipi hardware questa valutazione si è più realistica, mentre invece una valutazione fatta a livello microarchitetturale diventa più efficiente ed è fatta nei primi stadi del design. Il nostro contributo è cercare di capire quanto una valutazione fatta a livello microarchitetturale sia accurata quanto una valutazione fatta con esperimenti con fasce accelerati sul dispositivo finale in hardware. Per fare questo confrontiamo l'affidabilità studiata con BIM experiment e con un'iniezione di guasti fatta a livello microarchitetturale su un dispositivo ARM A5 stand alone e un dispositivo A9 integrato in un sistema complesso e studiamo l'effetto dei guasti sia nel codice eseguito bare metal che sul codice eseguito su un sistema operativo Linux. La nostra idea appunto è cercare di capire quanto sia diversa la valutazione fatta negli stadi iniziali del design da quella fatta con un dispositivo fisico e cercare di capire quanto l'integrazione del processore in un sistema complesso hardware e l'uso del sistema operativo modifichi le caratteristiche di affidabilità del codice. Nel dettaglio abbiamo eseguito degli esperimenti accelerati con fasce di neutroni ai laboratori CIP-IR nel Regno Unito e LANS in America su un'arma A5 nella scheda di microchip e su un'arma A9 nella scheda della Xilinx. I nostri test hanno dato una dose di neutroni ai dispositivi che equivale a più di 18 milioni di anni di esposizione ai neutroni naturali per cui riusciamo ad avere una statistica molto buona. Inoltre abbiamo fatto degli esperimenti di iniezione di guasto sui modelli GEM5 usando l'iniettore di guasto EJFIN e siamo riusciti a predire l'error rate, quindi il tasso di errore dell'arma moltiplicando l'AVF, cioè la probabilità di un guasto di propagare all'uscita con la sensibilità della tecnologia, cioè la probabilità che il guasto sia generato. Vi presenteremo i dati ottenuti con più di 176.000 iniezioni di guasti. Abbiamo considerato quattro codici per dispositivo eseguiti sia bare metal che con Linux e abbiamo studiato la probabilità che il guasto transiente generi un silent data corruption, cioè il sistema funziona, il programma si conclude ma l'uscita è sbagliata oppure che il guasto transiente generi un application crash, cioè l'applicazione finisce in maniera inaspettata senza produrre risultato però il sistema funziona ancora e riesco a lanciare un'altra istanza dell'applicazione, oppure un system crash, cioè devo resettare o fare un power cycle del dispositivo. Qui confrontiamo l'error rate misurato con il fascio accelerato di neutroni sul dispositivo reale con il fit rate che abbiamo misurato con l'iniezione di guasti nel modello microarchitetturale. Quando l'error rate predetto con l'iniezione di guasti è maggiore dell'error rate misurato con il fascio di neutroni mettiamo i valori in positivo altrimenti in negativo. Per esempio per il codice FFT eseguito sulla 5 con Linux abbiamo visto che il fit rate misurato con il fascio di neutroni è 1,74 volte più alto di quello predetto con l'iniezione di guasti. Come si può vedere per la stragrande maggioranza dei casi riusciamo grazie all'iniezione di guasti ad avere un'ottima predizione dell'error rate all'uscita dell'applicazione. Se invece noi guardiamo al confronto fra lo studio fatto sul modello microarchitetturale e sul dispositivo hardware per i crash, quindi l'application crash o il system crash vediamo che per il chip stand alone A5 riusciamo ad avere una predizione accurata anche per l'application crash mentre per il system crash e per l'application crash su dispositivo integrato in un system on chip abbiamo due ordini di grandezza di differenza. Questo significa che la maggior parte degli errori che generano un'application crash in un sistema integrato succedono fuori dalla CPU, cioè i modelli non simulati con Gen 5. Simili risultati li abbiamo ottenuti per il system crash e vi suggerisco di guardare i paper per maggiori dettagli. Correlando tutti i risultati che abbiamo ottenuto riusciamo anche a capire quanto l'integrazione della CPU in un sistema complesso e l'uso del sistema operativo impattino l'affidabilità del dispositivo. Secondo i nostri risultati la probabilità di avere dei standard data corruption, quindi all'uscita dell'applicazione non muda, non cambia molto se noi abbiamo la CPU integrata in un sistema on chip o se usiamo un sistema operativo. Al contrario, i crash e gli application crash e i system crash sono significativamente aumentati fino a due ordini di grandezza quando noi integriamo la CPU in un sistema complesso oppure usiamo il sistema operativo. Concludendo, abbiamo visto che combinando un'iniezione di guaste a livello microarchitetturale e degli esperimenti con neutroni accelerati su dispositivi fisici riusciamo ad avere una valutazione dell'affidabilità del dispositivo che sia sia accurata che realistica. Abbiamo visto anche che la probabilità di avere dei standard data corruption all'uscita dell'applicazione non è modificata dalla presenza del sistema operativo o dall'integrazione della CPU in un sistema hardware più complesso. Al contrario, la probabilità di avere dei crash, quindi dei reboot o degli hang cambia significativamente quando c'è il sistema operativo oppure il processore è integrato in un sistema più complesso. E abbiamo dimostrato come con un fine tuning del fault injection a livello microarchitetturale riusciamo a predire sufficientemente bene la probabilità di avere degli errori all'uscita delle applicazioni. Questi sono i nostri sponsor che dobbiamo ringraziare e vi ringrazio per l'ascolto.